E adesso ci accingiamo a chiudere con un'altra testimonianza da parte di Patrizia Tomasic, spero di aver pronunciato bene, founder di Explora al Museo dei Bambini di Roma. Salve! Tu sei nonno, eh? Devi venire. Allora, chi lo conosce? Qualcuno lo conosce? C'è mai stato? Vai! Ok, i figli, i figli, quindi insomma figlio oppure anche magari qualche ragazzo è stato, grazie, è stato ad Explora quando era piccolo, forse qualcuno? Ok. Allora io vi parlo di questa che è un po' una passione, è un lavoro che mi prende da circa 18 anni, comunque. Di Museo dei Bambini non ce ne sono tanti in Europa, ce ne sono molti di più in America, perché non c'hanno che da fare. Quello di Roma è nato nel 2001, ospitiamo all'anno circa 150.000 visitatori, ed è privato e non profit. Quindi sono delle parole che poi, adesso nella presentazione vedrete, che sono on-loose, sociale, bambini, gioco, scienza, e tutte quante insieme fanno Explora. Allora, parto da questo Taking Play Seriously, che è un articolo bellissimo, che è uscito ormai nel febbraio 2008, sul New York Times, il fotografo, non so, magari se tu lo conosci, è questo Tom Sherlitz, il giornalista, il reportage Robin Maransang, che è bravissimo, e sono 4-5 pagine di foto fantastiche, tutte quante incentrate su quello che è il gioco. Addirittura c'è in America questo National Institute for Play, proprio un istituto dedicato allo studio del gioco. Il gioco che è il motore dell'apprendimento, che riesce a generare memoria, che riesce a generare benessere. Non solamente appunto per i bambini, ma per tutti, anche per gli animali. Esplora, quindi parte da qua. Gioco, ricerca, skill, desiderio di conoscere e motivazione. Diciamo che per noi questo è un punto di partenza. Ai bambini devono essere incoraggiati e devono essere date anche dei temi complessi, anche difficili, come scienza, come chimica, come matematica, come geometria, come arte, come ambiente. Tanti temi difficili, anche complessi, su cui impegnarsi. Che cos'è Esplora? Appunto noi abbiamo ristrutturato un'area che è comunale, che è stata data in concessione, abbiamo raccolto 3.700.000 euro, nel 2001 era più semplice raccoglierli, e abbiamo creato appunto questi 6.700 metri quadrati di quello che venne chiamato Children's Museum, privato e non profit. Bambini, scuole, famiglie sono il nostro target. C'è da dire che poi, adesso non so se qualcuno l'ha visto, è interessante come architettura, è un'archeologia industriale, è completamente il padiglione centrale di vetro, quindi per farsi vedere, per vedere cosa c'è al suo interno. È un museo a misura di bambini. Mi ricordo quando all'inizio, era il 93-94, quindi parliamo quasi 20 anni fa, come faccio un museo dei bambini? E gli americani hanno questo, mi ricordo che comprai questo kit, how to start up a Children's Museum, con 80 dollari, ti spiegava come dovevi fare. Sì, insomma, sembrava semplice, però comunque, alla fine e poi dopo in queste cose, ci vuole sempre passione, ci vuole sempre dedizione, ci vuole sempre capabilità, e ci vuole sempre anche molta forza d'animo. Giochi e allestimenti interattivi su scienza, ambiente, comunicazione, società, economia, nuove tecnologie, sono tutti quanti temi che noi interessano, ecco perché lavoriamo anche con le aziende, ecco perché cerchiamo di farci anche contaminare da altre associazioni, da altre fondazioni. Lavoriamo con AIRC, Fondazione Veronesi, con Teleton, con tantissime anche altre realtà importanti, anche a livello scientifico. Hands-on International, l'Associazione dei Citi del Museum Europei, e Excite, il Network of the Science Museum, perché a noi piace puntare in alto e copiare o comunque metterci a confronto con altre realtà che sono anche più importanti di noi. Non siamo un science center, né per budget, né per competenze, ma puntiamo a dei temi importanti. Allora, qualche numero, a me piacciono molti numeri, ero pessima in matematica, di fatti dopo l'amico che seguirà il 25 settembre, invece è un direttore esperto appunto di matematica. 150.000 abitatori all'anno, un milione e mezzo quasi dal 2001, 1.500 laboratori offerti a scuole e famiglie e 20.000 alunni sui 150.000, quindi sono un piccolo successo. Quando mi ricordo poi all'inizio andavo in giro appunto per il comune a chiedere le aree oppure a cercare di lavorare, eccetera, mi dicevano Museo dei Bambini, e che fate, li impagliate? No, no, perché all'epoca, pensate, il Museo dei Bambini non voleva dire niente, era una cosa assurda. Addirittura proprio l'approccio dei musei era completamente... Cioè non ci pensavano proprio ai bambini. La nostra filosofia, adesso ve la riempio in maniera veloce, a incoraggiare e aiutare il naturale desiderio e l'apprendimento che in ogni bambino, i bambini sono come dei ricercatori. Cioè cercano sempre di capire, di sbagliare, sbagliando imparano, riprovano, ritentano. Avete mai visto? Io sono bambini al museo, ma anche a casa, ve lo ricordate? Che stanno lì tre ore su una stessa cosa, oppure che vi chiedono perché tante, tante volte. Il gioco fa dimenticare il mangiare, il cibo, il bere. Si fanno la pipì addosso, i bambini quando giocano. Lo ricordate? Qualcuno se lo ricorda. Ok, il secondo punto è offrire ai genitori e ai bambini questa, così, vivere insieme questa esperienza. Capisco che per dei genitori sia difficile, vediamo i genitori che il sabato arrivano, la domina che sono volenterosi e vogliono giocare con i bambini, certi genitori proprio non gliela fanno. E niente, si addormentano, oppure proprio magari non vorrebbero entrare. Comunque, è importante per noi proporre anche alla scuola esperienze ricche, anzi sarebbe molto bello che magari molta scienza, e molti di questi termini che si chiamano hands on o apprendimento non formale potessero essere trasportati proprio all'interno della scuola. Perché secondo noi attraverso il gioco si impara anche forse meglio, ci si appassiona di più. E poi naturalmente suscitare attenzioni e atteggiamenti positivi verso gli altri, l'ambiente, la cooperazione. Avvicinare i temi della scienza, che questo è molto importante, questa è una cosa che abbiamo inserito nel 2008, e lavoriamo con un sistema di qualità che è l'ISO 9001-2008. Non tutti i musei ce l'hanno, noi abbiamo iniziato appunto nel 2007-2008 ad applicarlo, è una formula interessante, almeno per noi che non sapevamo come gestire un museo, di imparare a lavorare bene. O di lavorare bene centrandoci proprio sul visitatore, centrandoci proprio sul visitatore e sulla qualità. Quindi se un genitore si lamenta, si lamentano. Se ci sono delle critiche, ci sono le critiche. Queste devono essere prese per migliorarsi, perché non si è sempre perfetti, e quindi insomma bisogna sempre migliorarsi. La vocazione di esplora. Tre sono i temi, uno è la scienza, quindi curiosità, desiderio di sapere, esplorazione, il gioco, hands-on, educazione non formale, learning by doing, che sono dei termini purtroppo antipatici, perché magari sono inglesi, sono anglosassoni, eccetera, però sono quelli che oggi si usano per dare il senso proprio dell'interazione tra gioco, divertimento, apprendimento. E poi c'è l'ambiente, la sostenibilità. Come fa una onlus a sostenersi? Sì, c'è la sostenibilità ambientale, ma quella economica? Allora, come si sostiene esplorare? Questi sono dei dati che poi più o meno noi pubblichiamo sui nostri siti, sono i bilanci, c'è tutto, eccetera, eccetera. Si sostiene al 68%, noi non prendiamo nessuna, non abbiamo convenzioni con i comuni, non prendiamo soldi, Stato, Governo, quindi i nostri ricavi sono maggiormente appunto dalla biglietteria, che è oltre il 60%, dalle sponsorizzazioni corporate. Per noi è molto importante lavorare con le aziende, perché non è solamente una targhetta, ma è anche interazione. Abbiamo fatto dei lavori bellissimi con molte aziende che ci hanno insegnato. Bandi. Siamo dei segugi per i bandi, andiamo a cercare, diciamo, tutte le possibilità di ricavo, di profitto. Sembra una parola brutta insieme a un onlus, però comunque un onlus, un'impresa, deve comunque trovare il suo equilibrio. Quindi sono bandi soprattutto europei, da cui abbiamo imparato moltissimo, anche nazionali e locali. Poi servizi, shop e libreria. Le mostre ad Explora. Possiamo far partire quel piccolo video dell'elefante? A presto, a presto, a presto. 13 e 5. Il mio 6. Ok. Vado avanti perché faccio appunto solamente due minuti. Questa è una mostra ovviamente prodotta da noi. e quindi tutti gli ex-bit sono prodotti dal museo e il museo è fatto di prototipi. Cioè, una grande fabbrica di, oppure se vogliamo, un grande maker, perché alla fine tutti quanti gli ex-bit sono prodotti, progettati, pensati. devi uscire dal punta, perché sennò non vado avanti. Ok. Ok, sono pensati, studiati, disegnati e poi prodotti dal museo. Ovviamente lo facciamo anche insieme ad artigiani, architetti, però comunque è centrale all'interno della nostra impresa. Facciamo partire l'ultima cosa che è un tinkering. Questo ci tengo a farvelo vedere perché... è un tinkering. la terrazza celeste della bambina. La mamma fa, la mostro, le spruzzate, le raggettate da qui. La femminilità è anche, come dire, una women in science. Questi sono circuiti elettrici che sono prodotti dai bambini. Questa è una formula, si chiama tinkering, è una nuova, insomma, inventato all'exploratorium su cui ci siamo formati da San Francisco. E niente, mette insieme oggetti di vario tipo, materiali di vario tipo, per poi realizzare dei piccoli prototipi, come quello che avete visto. L'Europa, finalmente... Cioè, noi per fortuna abbiamo l'Europa. Qui sono tanti progetti con cui l'abbiamo lavorato. Noi abbiamo il primo impianto fotovoltaico, anzi, ne abbiamo due. Il primo è nato con la Commissione europea, con un progetto della Commissione europea. E tutti questi progetti, questi sono i più grandi, ci hanno aiutato e ci hanno portato per oltre 500 mila euro negli ultimi cinque anni. Sì, circa. Questo vuol dire che, se... Naturalmente noi ci siamo formati, abbiamo studiato, abbiamo fatto dei corsi, abbiamo sbagliato tanti bandi e poi alla fine, comunque, oggi riusciamo a prendere e siamo anche capofila. Abbiamo recuperato una... riqualificato un'area della città, era un ex deposito dell'ATAC pieno di amianto. Abbiamo ristrutturato 6.700 metri curati. Abbiamo due impianti fotovoltaici che producono 40.000 kilowatt, diciamo, di energie dal sole e ci aiutano d'inverno sul 30% di diminuzione della bolletta, se vogliamo, ed estate sul 12%. Archeologia industriale, l'area ieri, l'area oggi, e questo è il progetto del futuro. Molti sono i sostenitori, molte sono le aziende e i privati e questo, io lo farei partire, insomma, è finito. E questo è il progetto del futuro, altri 2.000 metri quadrati. Se voi passate per i via di Fiammina, lo vedete, è un'area abbastanza... Sapete? Tra un pochino si parte. Ok. Vedano il futuro. È flore a crescere. Grazie mille, Patrizia. Tanto ho visto che già ti preparavi per chiamare il prossimo speaker. Sì, lo chiamiamo subito. Allora, Roberto Natalini è direttore dell'Istituto per le applicazioni del calcolo Mario Piccone del CMR. È un matematico, ma folle. Eccoci. Si può mettere in viva voce? Aspetta, ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ho sbagliato io. Si può mettere? Sì. Perfetto. Pronto? Ciao, Roberto. Ciao, Patrizia. Eccoci. Questa è una telefonata ufficiale. Tu non sai nulla. Del 25, sembra settembre, ottobre. 25 settembre, no, 25 settembre, ok. E niente, allora qui ci sono un po' di persone e quindi tu dovresti dire che ci sarai, vero? Ci sarò sicuramente, non mancherò. Ok. Sarà con voi. Vabbè, bisognava farla. Dunque, io ho detto che tu sei un, quello che sei la tua grande carica, eccetera, ma che sei un matematico un po' folle, giusto? No, spero di no, diciamo, insomma, mi piace dirmi, però, insomma, non posso farla, ecco. Beh, oddio, insomma, comunque. Senti, ma la matematica ti fa paura? Ci fa paura a noi, a te no? Beh, diciamo, la matematica fa paura perché, insomma, a volte è difficile, però, diciamo, solo a prendere il verso giusto non fa paura. Può essere anche divertente. Benissimo. Perché penso a questa cosa, insomma, va bene. Magari ce ne verrai a parlare qui il 25, va bene? Va bene. Grazie Roberto, al 25, allora. Ok, grazie Roberto, grazie mille. Ciao, ciao, ciao. Grazie. Perfetto. Grazie ancora, Patrizia. Bambini, ambiente, ispirazione, abbiamo toccato un po' tutti i temi, spero vi sia piaciuto, anzi, sono sicuro vi sia piaciuto e quindi vi aspetto il 25 settembre. Vi ricordo che l'uscita è in fondo all'acceleratore, passerete per Luis Ellabs, che è un nostro sponsor, che ringraziamo Luigi Capello che ci ha ospitato oggi qui, ringraziamo anche Agenzie 365, l'hotel Fontanella Borghese, l'hotel Due Torri e ovviamente il nostro sponsor Wine & Wine, Federico De Cerchio. Grazie a tutti e al 25, allora.